Sottata di mano, buongiorno, buongiorno ragazze, bentornate ad Arte in Corso Tarquinia, primo appuntamento dopo le feste, quindi spero che vi sia andato tutto bene, bentornate, benvenute, queste feste sono state molto positive, spero che anche voi siate state bene, io mi sono riposata, sono più carica di prima, con tante idee, molto chiare, quindi benvenute di nuovo ragazze. E poi ci faremo gli auguri per l'ultimo dell'anno, o il primo dell'anno, come vi viene meglio. Eccoci qua oggi con Betty, Betty la Befanona, un progetto preso dal cartamodello Stencil dei Sorpresoni, scusate, della creativa By Marta, il cartamodello è il 56, La Befanona che andremo a revisionare, vedere insieme, sarà questa qua, che mi ha ispirata, poi chi mi conosce sa che io prendo questi cartamodelli e li elaboro un po' a modo mio, perché li lavoro, magari faccio un po' mio, il progetto che originalmente appartiene a un cartamodello come questo. La mia Befanona, la mia Betty è questa qua, ve l'ho presentata ad Artellotto la scorsa volta, che ci siamo viste, e io mi sono divertita tanto, perché questo è un cartamodello Stencil veramente interessante. Ci sono all'interno tre progetti, abbiamo un lollo, abbiamo, che è qua dietro, che ci sta guardando, eccolo là, sempre interpretato a modo mio, abbiamo la Befanona interpretata a modo mio, l'arena non l'abbiamo ancora fatta. Chiaramente all'interno del kit che noi vi proponiamo, il cartamodello non ci sta, il cartamodello tante di voi l'avete acquistato, ha un costo di 12 euro, ne abbiamo ancora a disposizione se volete potete ordinarli al 328 900 4879, ma all'interno del mio kit Betty, la Befanona, troverete delle istruzioni, delle rielaborazioni, delle modifiche che ho apportato al progetto originale e che non sono chiaramente presenti sul cartamodello. Troverete un cartaceo con tutte le istruzioni passo passo di quello che dovete fare e poi sarete supportati da questo video tutorial di oggi, ok? Quindi ho apportato delle modifiche e oggi le vedremo. Ma la cosa principale che mi faceva piacere affrontare insieme a voi oggi è vedere innanzitutto come realizzare il volto, la faccia della Befana e come fare i succetti o le codine. Quindi diciamo tra la scopa per esempio, che io l'ho realizzata con la cannella, se la riconoscete sono le cannelle che noi abbiamo ad Artellotto, vi abbiamo proposto. Insomma questa è la mia personale interpretazione e mi ci sono divertita tantissimo come vi dicevo prima. La struttura principale del corpo è come quella che avevamo fatto precedentemente con Lollo, quindi per avere poi più chiarimenti su come realizzare tutto quanto il corpo, con modifiche che adesso io vi spiegherò, magari vi andate a vedere anche l'altro di video tutorial, che è il precedente a questo, ok? Questi sono i due personaggi dei sorpresoni, ok ragazzi ci siamo? Vedi le nostre amiche ci sono? Si stanno collegando perché oggi è un orario un po' particolare, ma lo volevamo fare proprio perché ho deciso di farlo oggi, per dare la possibilità di farvi arrivare a casa i kit, per poterli fare, realizzare e averceli pronti per la Befana. Perché questa è come se fosse una calza, nella parte dietro praticamente c'è uno stretch, una tasca, non so se si riesce a vedere Federica, eccola qua, dentro la quale si possono mettere tutti i dolcetti del mondo, compreso il carbone, se qualcuno vi fa arrabbiare ci mettete dentro il carbone. Io ho realizzato questa tasca in questo modo, anche questa è una mia modifica, perché poi nel cartamodello il taglio è verticale, io ho preferito farlo orizzontale e ripeto, la realizzazione del corpo la trovate spiegata un po' più approfonditamente nel videotutorial precedente, quello di Lollo, il pupazzo di neve. Siamo pronti Federica? Ci siamo? Qualche bacino, cuoricino, like delle nostre amiche? Tanti cuori ci hanno mandato! Ragazzi, oggi ci divertiamo con la Befanona! E il cartamodello è sempre lo stesso, quindi multiuso, abbiamo detto che nel kit che viene 26 euro fino ad oggi, da domani il kit Befanona verrà 28, lo troverete da domani anche sul nostro sito www.tividarte.it, ma oggi sarà ancora per tutta la giornata a 26. Tutto il materiale che comprende, lo ripeto perché a volte mi si dice, la cosa che non hanno i kit, la maggior parte di kit o quantomeno i miei kit, sono le imbottiture, le imbottiture vengono sempre escluse, voi vi troverete tutto il materiale per realizzare il cappello, la faccina, l'acconciatura, quindi la lana, trovate il filo di ferro, trovate la sciarpina, tutto per fare le braccine, per fare il corpo, la scopa, quindi anche la parte della cannella, la stecca, le scarpine, importante il fiocchettino, il campanellone vintage che suona pure, guardate che carino, insomma tutta come la vedete così, in più il cartamodello su cui poterci lavorare, ok? Spero che sia chiaro, chiaramente non avete i colori, i colori li avrete a casa per dipingere il faccino, però tutta così strutturata ve la trovate all'interno del cartamodello, del kit. Ci sono due varianti di colore, la variante verde che è questa, e la variante che andremo a vedere oggi insieme che è quest'altro fondo più neutro, bellissimi entrambi, vi potrete trovare degli abbinamenti, perché già ne abbiamo preparate tante, che usciranno tra oggi e domani, quindi li avrete a casa o questa settimana o i primi proprio del mese di gennaio, in modo che per il 6 siete tutte pronte i cobetti, e quindi oggi andiamo a lavorare su questa, ripeto, non vi faccio vedere, facciamo velocemente un ripasso come generale su come andare a riprendere la struttura del corpo, io lo faccio su un foglio di carta bianco, perché se vado a lavorare su dei colori che magari sulla telecamera non si vedono bene, il lavoro è sprecato, quindi noi andiamo a vedere che cosa succede su carta. Fondamentale questa cosa, noi abbiamo provato, l'ho provata io personalmente, quindi mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo in questo momento. Tutte le parti che compongono i vari pezzi dell'abbetti sono state misurate, messo con la grande larghezza, come si può dire Federica? Un'abbondanza. Un'abbondanza per poterci fare, diciamo, entrare tutte le parti che compongono obietti. Quindi, prima di andare a tagliare, no? Non voglio sentirmi dire, ah non c'è entrato, ah non c'è, ci va tutto, l'ho proprio provato personalmente io per evitare poi polemiche e storie varie. Prima di tagliare si misura, si disegna sempre. Avete il cartaceo, tagliate tutto il cartaceo di quello che io vi ho messo, lo andate a provare sopra le varie parti che compongono il kit, solo quando avete visto che avete trovato bene tutte le proporzioni, tutte le misure, allora lì andate a tagliare. Fate attenzione, noi partiamo dal corpo. Fate attenzione nel corpo, perché? Il corpo è costituito questa volta da tre parti, non sono solamente due parti, non è un davanti o un semplice dietro, c'è un davanti che viene fatto intero e se andate a leggere il cartamodello vi dice di riprendere questa misura qua, questa sagoma grande qua, ed è questa che io vi vado a disegnare sul foglio bianco. Vedete, non so se la puoi abbassare, tanto non è importante che mi veda io, eh? Allora, facciamo così. Non è importante che mi veda io. Allora, la prima parte, corpo. Mi giro proprio, sì. Attenta che qui c'è il ferro, ci sta un po' tutto. Ci penso io, arrivo subito. Allora, chiaramente io adesso vado a lavorare con una penna normale, perché sto facendo su carta. Voi che fate su stoffa, ecco qua, direttamente i disegni, mi raccomando, utilizzate le penne cancellabili, perché in questo modo, qualsiasi baffo, qualsiasi disegno, io vado a fare sulla stoffa, è sufficiente passare il ferro da stiro e far sparire, scomparire il tutto, ok? Ripeto, io faccio su carta, quindi ho bisogno di una penna che non svanisca, ok? Prima parte, corpo centrale, la parte frontale. Giro. Abbiamo già, ormai sappiamo che cosa significa, ribaltare, praticamente, speculare, fare una forma. Ah, stavo facendo questo, stavo sbagliando, ragazze, perché poi se ci passo il ferro, anche qui mi sparisce, eh? Mi sparisce il tutto. Eccolo qua. Questa la chiameremo A, è la parte questa davanti, ok? La parte A. Dato che io dietro devo realizzare una tasca, devo fare in maniera tale che la parte sopra vada a sovrapporre quella che è sotto di qualche centimetro, perché altrimenti mi trovo slabbrato e aperto in questa maniera il dietro. Sono chiara, ragazze? Ditemi se c'è qualcosa che non capite. Io cerco di parlare il più semplice possibile per potervi far capire a tutte. Ci sono con noi amiche molto esperte. Esperte e meno esperte. E meno esperte. Quindi noi però partiamo tutti dall'ABC, partiamo tutti dal primo giorno di scuola. Quindi andiamo anche a ripassare. In questo modo. Allora che cosa faccio? La prima parte me la vado a posizionare qui sopra, me la misuro, ci va tutta da questa parte e la inserisco. La inserisco qui. Voglio vedere se c'è, Federica, il disegno è già tagliato? Il disegno è già tagliato. Tutto io ho fatto le mie prove. Vediamo un attimino. Ci dovrebbe essere da qualche parte. Ok. E come sempre, io me lo preparo come sempre e poi non lo trovo mai. Se no ti puoi tagliare questo? No, 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 no. È più comoda, ok. C'è un kit con la befana, cioè un cartamodello. Non importa, non importa, Fede. Ce lo dovrei avere, ragazzi. Se no, come dice Federica, taglio questo. Taglio questo qui. Taglio questo qui. Sì, sì, va bene. Tanto quando ci prepariamo le cose e poi manca sempre qualcosa, eh, ragazze? Ma non è un problema. Allora, vi faccio vedere. Abbiamo un negozio troppo grosso. Troppo grande, esatto. Hai ragione. Allora, questa è la prima parte. La seconda parte. Che cosa devo fare? Io dietro devo realizzare questa tasca. Allora che cosa decido? Che è una certa altezza. Si vede, Federica? Magari un'altezza tipo questa. Io mi fermo un pochino più. Ho stabilito. Qui c'è una freccia, no? C'è una freccia e ci sono due puntini. Per me, vado sopra i puntini, ho trovato un punto di riferimento. Poi voi trovate il vostro, ma sinceramente all'interno del cartamodello la misura precisa ci sta, eh. Adesso, io per non essere troppo perfettina, vedete? Io me la realizzo in questa maniera. Sono andata a fermare. Mi sono fermata sopra questi due buchini. C'è un buchino e mi ci sono fermata. Giro di qua. Ripeto, ce l'avete già nel cartamodello, eh? Questa variante. Quindi, non vi preoccupate. Trovate tutto lì dentro. Che cosa faccio? Vado dall'altra parte, faccio l'altro giro ed eccomi qua. Ce l'ho qui, eccolo qui, vedete? Ed ecco. Quindi sarà questa la parte B. La prima parte che andremo a mettere sul rovescio. Mi manca la copertura sopra perché io devo finire il corpo. Mi manca quella parte sopra. Allora, la parte sopra me la vado a posizionare da questa parte. Scendendo di due centimetri sotto perché io devo entrare qui sotto, eh? Devo entrare, lo devo far sovrapporre. Riuscite a capire questa cosa? La riuscite a capire questa cosa? Ora poi ve la faccio vedere tagliandola, eh? Allora mi vado a preparare la parte sopra. Questo, eravamo arrivati qui. Andiamo a finire, oddio, andiamo a finire sotto, da quest'altra parte. In questo modo. Stavolta ci aiutano quei pallini. Sì, però loro ce l'hanno dentro il cartamodello. Questo lo faccio vedere perché soprattutto chi ha lo stencil già a casa e vuole utilizzare quello può capire questa cosa. Io sono andata sotto. Praticamente io ho bisogno di tracciare tre parti che saranno una C. Ci sono sempre le nostre amiche che quando siamo in diretta ci chiamano qualcuno in diretta. Poi si può non entrare in diretta anche loro, ma abbiamo due telefoni. Comunque, ripeto, quello che io faccio adesso su carta è stato fatto chiaramente su stoffa perché noi poi abbiamo dovuto cucirle, no? Senza adesso alzarci, andare alla macchina da cucire. Tante volte chi ci segue sa come facciamo. Noi adesso cuciamo a macchina per accelerare tutti i tempi. Voi a casa, se vi piace il punto festone, il punto filza, lo potete fare, altrimenti utilizzate la macchina da cucire. Allora, anche dentro il cartamodello io li ho chiamati in queste tre maniere, in questi tre modi. ABC. Poi se c'è qualsiasi cosa, voi al 328-900-4879 mandate un messaggino. Non chiamatemi, se potete, con il cellulare perché dentro il negozio non prende. Quindi mi mandate messaggini. Poi noi vi contatteremo. Io ho Federica, appena avremo la possibilità di farlo, vi andremo a contattare. Se ci sono delle urgenze, chiaramente basta dire vere urgenze, ragazze, vere urgenze, per qualsiasi cosa noi ci siamo. Eccoci qua, guardate, è molto molto semplice. Questo lavoro voi lo fate a filo sulla stoffa con una penna cancellabile. Eccola qua, penna cancellabile ed è questo che vi volevo far vedere. Questo è il davanti, ok? Io ho il mio davanti, lo mettiamo qui. Eccolo. Io ho il mio davanti, in questo modo, lo metto in questo modo qua. Dovrò fare la mia tasca sul rovescio. Ecco, vedete questa prima parte e poi vado a fare la seconda. Questa la posso sovrapporre in questo modo. Vedete ragazze, io qui ho avuto bisogno di allungare, eccola qua. Poi mi dici, Federica, se è tutto chiaro. Io mi fermo un attimo, vedete qui, eccola qui, guardate. Ragazzi ci siete? Ci siete? Date segni di vita. Si capisce. Io adesso non vado avanti fino a che non mi dite che avete capito questo passaggio. Io qui ho messo un piccolo stretch, ho la necessità di far sovrapporre la parte B alla C perché devo fare una tasca. Se non avessi avuto la tasca, avessi avuto diciamo qui l'ollo, noi abbiamo fatto due parti, uno e due, poi abbiamo aggiunto una terza parte. Scusami, puoi avvicinare un pochino al banco? Ah, così. Ecco, una terza parte l'ollo, l'abbiamo inserita esternamente, però qui non avevo bisogno di inserire nulla e mi è andata bene in questo modo. Io l'ho imbottito e mi è andata bene così. In quest'altro modo io ho bisogno di una tasca e devo per forza fare questa sovrapposizione. E a questo punto, ci sei Federica? Le ragazze ci sono. Ci sono? Ragazzi, è chiaro questo? Io mi sono preparata i piedini e questo lo andate a vedere con l'ollo in l'altro tutorial. Li ho inseriti dentro, prima di cuscire a macchina, voi, ripeto, fate appunto filza come volete, i piedini io me li vado a inserire uno a destra e uno a sinistra della stoffa, cucio tutto quanto compresa la parte alta, quindi io mi vado a cuscire questa parte, tutta questa, introduco i piedi e cucio anche qui i piedi già imbottiti. i piedi ci sono quindi prima cosa i piedini i piedini imbottiti li inserisco dentro, vado a cucire dappertutto tutte queste parti e mi troverò questo corpo identico al mio, sia se si tratta del verde che se si tratta dell'altro colore. Ci siamo ragazze? Questo è il corpo. Ci siamo io? Che cosa mi dicono? ci sono tutto ok e si capisce? Quindi all'interno di questo taglio sia se si tratta del lana sia se si tratta del verde voi avete la quantità giusta per poterlo realizzare. Mi raccomando prima di tagliare fate la prova su carta. Ok? Lo mettete e lo andate a tagliare. Questo è il primo passaggio. Secondo passaggio andiamo a vedere. Prendiamo la carta che devo fare anche i piedi Federica? Che dici? Vale la pena fare anche i piedi o le nostre amiche lo sanno non è necessario. Vado con le braccia perché la modifica l'abbiamo fatta anche con le braccia. I piedi quindi sono regolari come c'è sul carta modello? E come sì i piedi sono regolari e poi vedono l'ollo l'inserimento di l'ollo l'inserimento dei piedini con come si chiama la pelliccetta è la stessa identica. Solo qui noi abbiamo messo una pelliccetta diversa perché questa è una befana è un po' più trasandatella e l'abbiamo messo Mi chiede Carla ad altri il kit non comprende lo stencil? No l'ho appena detto prima Carla l'ho detto prima lo stencil ha un costo di 12 euro ed è a parte e nello stencil non trovate solamente io vi consiglio guardate vivamente questi stencil se potete ragazze collezionatevi perché veramente avete tanti spunti e tanti progetti da realizzare lo stencil sorpresone 56 ha oltre che l'ollo ha la befanona di creativa by Marta e ha anche la renna lo ripeto ora Federica Federica lo ripeto adesso poi non lo ripetiamo più perché sennò siamo sempre a dire la stessa cosa allunghiamo il brodo però se volete la mia versione di di Betty la trovate nel nostro kit ci sta la nostra versione la nostra versione eccola qui la nostra versione cartacea con tutte le varie modifiche ok? perfetto ci siamo ci siamo allora modifica che io ho apportato sono anche le braccia perché mi sembravano troppo corte allora che cosa ha fatto le braccia si realizzano con il cartamodello 9 vanno fatte in doppio ne abbiamo bisogno di due quindi le possiamo fare due speculari si vedono Federica più in basso penso la si si la mettiamo un po' più in basso perché io sempre queste palline ho preso di riferimento però le nostre amiche da casa possono decidere di farlo due centimetri più alto nel mio kit il mio cartamodello è già modificato questo praticamente è l'originale mi sembrava troppo corto allora che cosa ho fatto io l'ho allungato adesso faccio a mano libera ragazze l'ho allungato di un pezzetto queste sono le mie braccia ok? allora facciamo il primo e facciamo il secondo se vi serve qualcosa potete chiedere tanto noi siamo tra amiche non c'è problema ok Federica ci siamo questo era l'originale io l'ho allungato in questo modo e in quest'altro abbiamo fatto le braccia un pochino più lunghe perché secondo me a me piacevano in questo modo chi piace il mio cartamodello le avrà un pochino più lunghe eccole qua sono due una a destra una a sinistra nel mio cartamodello avete la possibilità io vi ho messo un tracciato se le volete stondare le stondate quindi questa parte la andremo a tagliare però io adesso qui ho rispettato l'originale del taglio ok? in questa maniera le cucio punto filza punto festone come volete cucitura a macchina imbottiamo un pochino con l'imbottitura e poi andiamo a realizzare le manine eccoci qua le manine sono queste le manine sono tali e quali il cartamodello 11 eccolo qui potete dire a voce alta se vi serve Federica è meglio che sentire bisbigliare lascio un attimo qui la telecamera scusate un attimino perché ci sono persone che sono dall'altra parte e ci stanno aspettando allora tanto io vado avanti e vi faccio vedere realizziamo le manine le manine sono due due diverse una a destra una a sinistra attenzione al ditone dove andate a metterlo io vado a cucirlo e vi faccio vedere come l'abbiamo realizzato noi anche questo potete farlo con il punto filza o il punto festone chiamiamola uno e chiamiamola due eccoli qua noi le abbiamo già cucite l'abbiamo eccole qui nel cartamodello troverete non il pannolenci la maggior parte del corpo è fatto e tutti gli accessori in pannolenci solamente il visetto e le manine abbiamo messo in tessuto di cotone ok e l'abbiamo noi cucite sul rovescio abbiamo lasciato un piccolo margine sopra e questo lo vedete nel nostro kit abbiamo rovesciato e ottenuto questo tipo di manina e anche qui la potrete vedere no sull'ollo c'erano dei bastoncini comunque per qualsiasi cosa se volete approfondire un attimino questo tipo di lavoro ve la facciamo vedere ma andiamo a cucire qui sopra una domanda interessante di di Engie allora Engie mi dice posso usare sul lato A anzi posso sul lato A mettere l'imbottitura piatta penso che per quanto riguarda il corpo allora lo puoi fare Engie però hai bisogno di un'altra parte A perché vi spiego se tu vuoi mettere le caramelle dentro a meno che tu decidi non voglio le caramelle non ci voglio mettere niente questa sostituisce la calza allora se tu qui metti l'imbottitura e cuci è brutto quando vai a mettere i dolcetti dentro che ti senti che graffia praticamente hai l'imbottitura è bruttissima no l'imbottitura in questo modo allora per evitare di sentire l'imbottitura tu fai due parti A che chiaramente non sono all'interno del kit perché il kit è previsto per fare tre pezzi se tu vuoi il quarto pezzo dovrai prendere a parte un panno lenci un altro panno lenci ti fai due di questi all'interno ci metti la rimbottitura e poi procedi come abbiamo visto abbiamo fatto vedere prima esatto capito sono stata chiara Federica va foderata la parte A in caso perché se no si tocca l'imbottitura e è molto brutto da sentire dentro la tasca ok ci siamo allora ecco fatto abbiamo realizzato quindi in questa maniera le due manine abbiamo detto abbiamo cucito all'interno abbiamo rovesciato la cosa è importantissima quando si cuce a macchina e quindi immaginatevi che questo sia dentro della stoffa quando ci sono delle insenature dei cunei in questo modo delle punte delle punte degli angoli con le forbicine andate a tagliare in questa zona non chiaramente a tagliare senza toccare il filo senza toccare la cuscitura fate delle incisioni con le forbicine vi avvicinate immaginate che questo sia il rovescio andate a tagliuzzare due tre taglietti non di più sono sufficienti esatto perché quando noi andiamo a rovesciare la manina non tirerà in questo punto la stoffa non tira perché gira e avendola tagliata non va a tirare questo magari lo vedremo bene in un altro tutorial più approfondito già lo sapranno ok quindi io mi sono preparata le manine che andranno ad essere inserite in questa maniera lo vediamo poi dopo ci prepariamo tutti i pezzi Federica e poi assembliamo in questo modo fatto questo se volete prendete ago e filo e continuate a cucire in questa maniera oppure si incollano e con una pennina come vi faccio vedere io si fanno dei tratteggini e una finta cucitura ok tanto se c'è la colla bloccata non succede nulla e queste sono le braccine braccia ce l'abbiamo rimettiamo la nostra befa non a Betti perché io la cosa che mi piaceva con le nostre amiche Federica era proprio far vedere la faccia allora se voi andate poi a realizzare il cappello il cappello è come il lollo o il cappello di lollo questa volta però io l'ho doppiato l'ho doppiato vedete i segni della penna cancellabile andiamo a levarli tutti e ho utilizzato una forbice a zig e zag eccola qua una forbice a zig e zag per poter dare questo effetto sfrangiato ok quindi sono due parti una realizzata sul pannolenci glitterato biscotto e l'altra sulla parte colorata del pannolenci sia se si tratta di questo scozzese che se si tratta di quest'altro facciamo vedere come incollare l'abbiamo visto penso abbondantemente la volta scorsa come si tagliava assemblava eccetera questa volta andiamo semplicemente a montarlo quando andate a mettere la colla non mettete la colla in questo modo nel senso sopra questo bordo per poi attaccarla perché sennò vi sbrodolerà tutta si vede tanto per farlo vedere il pieno possibile bisogna inserire delle diciamo un pochino di fare un orletto immaginario di modo che noi qua sopra andiamo a mettere la colla che ora sarà finita sicuramente Federica perché mi finisce sempre nei momenti meno adatti vado a prendere la misura e me lo vado a piazzare ci vuole un attimino ragazze eccolo in questo modo si vede Federica si adesso la metto io cercavo di mettermi in posizione in questo modo quando dopo sotto la stoffa in abbondanza si va ad aprire ricordatevi che c'è la colla dietro poi dove non arriva ce ne andiamo a mettere noi però in linea di massima viene in questo modo ancorata ci sono domande? ragazzi mi dicono ok tutto ok? perfetto questo l'abbiamo visto con l'ollo ragazze se avete modo di poterlo andare a vedere il cartamodello cioè il lavoro che abbiamo fatto il video tutorial della volta scorsa lo facciamo dobbiamo trovare il modo di tenere fissa la telecamera piano piano ce la facciamo ce la possiamo fare ce la possiamo fare eccoci qua e quindi io il mio cappellino me lo sono realizzato aspetto solo che tiri un pochettino quindi il cappello ce l'abbiamo le braccia ce le abbiamo quindi sulla parte sia se si tratta dello scozzese marrone che se si tratta di questo pannolenci ci viene tutto il cappello sopra ci vengono una falda diciamo una falda ci vengono le scarpine e addirittura rimangono delle parti che serviranno per realizzare le toppe come fare la toppa la toppa si può cucire già progettandola da subito e dire io adesso me la cucio a macchina e la vado a vediamo ce ne avevamo due tre Federica ne è rimasta una soltanto ci abbiamo il fantasmino eccoli qua noi ne abbiamo preparate tre come fare le toppe in maniera molto semplice adesso ve ne faccio vedere un pezzettino vedete che con tutte le rimanenze del pannolenci che abbiamo io me le ero preparate uno due ne metteremo così ne potremmo mettere una soltanto due le toppe sono carine perché danno proprio l'effetto dell'usurato neanche penso che questa non serva questa volta io le ho doppiate con la teletta quindi ora vi faccio vedere come ho fatto nel frattempo attacchiamo queste la teletta biadesiva strong che noi abbiamo a disposizione a 6 euro il metro quindi chi la vuole la può aggiungere agli ordini che abbiamo anche in corso la andiamo a mettere la metto qui Federica questa volta la metto a caso in questa maniera con il ferretto questo mini ferro che ha una temperatura abbastanza alta me la vado ad incollare e le metto sovrapposte me la posso mettere da una parte cioè come vi piace di più la parte alta è quella che si vede di meno quindi io vado a mettere le toppine nella parte sotto le posso anche fare di più colori poi voi a casa soprattutto chi ha il cartamodello si può sbizzarrire ma pure chi ha il nostro kit poi in realtà riesce a realizzarne delle altre se vuole fare a forma di cuore di stella si si brava ci vuole mettere un bottoncino perché può essere carino noi adesso per motivi proprio di velocità non mettiamo tante cose sopra però voi a casa potete fare come volete doppiarlo è semplicissimo basta girare il pannolenci prendere la teletta biadesiva hit bond rossa tagliare un rettangolino appoggiarlo lo vogliamo vedere lo sanno fare i nostri amici è necessario vederlo facciamo prima a farlo prima a farlo ok praticamente io adesso a caso essendo toppe me le faccio della grandezza che voglio ne facciamo una piccolina mi taglio un pezzettino di hit bond la vado a mettere dietro la stoffa eccola qua la vado a trasferire quindi vado a stirare eccomi qui ho stirato vado ce l'abbiamo la zig zag le forbici se ce l'avete le utilizzate se non le avete non vi preoccupate la fate normalmente tagliate normalmente eccola qua la mia toppina dritta storta non importa è una toppa della befana ragazzi voi la sapete la storiella che la befana vi andi notte con le scarpe tutte rotte questa era una filastrocca come la possiamo chiamare la conoscono le nostre amiche la befana vi andi notte con le scarpe tutte rotte il cappello la romana viva viva la befana questo è un detto che c'è dalle nostre parti per la befanina quindi eccolo qua questa è la toppina come abbiamo fatto vedere prima si va ad alzare eccola qui si alza qui c'è la parte adesiva e si va ad inserire dove noi vogliamo ok quindi questo ce l'abbiamo e procediamo ora per rendere un pochino più vere le braccia le manine la testina che poi vi faccio vedere che io ho già realizzato testina tonda imbottita lasciato aperto un taglio sotto sempre carta modello sempre lollo come campione per poter vedere come abbiamo fatto questa parte ho lasciato aperto un pezzettino sotto adesso io con la colla l'ho chiuso tanto andrà sotto il cappello sotto i capelli e non si vedrà nulla in questo caso non mi rimangio tutto quello che dico sui Versa Magic sui trucchi che poi svaniscono ma per comodità e ci vorrebbe tanto tempo adesso per poterle poi lavorare tutte io ho degli ombretti diciamo quelli scaduti che ci sono nelle case andiamo praticamente un pochino a spazzolare con una terra la nostra come si dice la carne e diamoci un effetto di ciccetta di carne Cioè Alessandra che ci dice questa è una befana scicca detto sembra barbari stile barbari stile barbari brava cara benissimo benissimo eccoci qua la sporchiamo un po' in questo modo perché diamo più un effetto roseo a volte ci sono questi tessuti che si assomigliano ce l'abbiamo il cascime il sabbi eccetera però insomma non hanno molto l'incarnato l'incarnato lo facciamo noi in questo modo e qui abbiamo bisogno velocemente di spazzolare di spazzolare e quindi abbiamo bisogno di un pennellone da trucco grande e del dei pigmenti che comunque in questo momento ci serviranno per dare questo effetto dell'incarnato e ci daranno la possibilità poi di inserire le guancette rosa con il Versa Magic ok? me le sono preparate tutti e due Federica io procedo all'incollaggio se vado troppo veloce mi si dica Federica ci siamo anzi ci sono ci sono benissimo 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 ragazze queste feste come sono andate? io sono riposata da un punto di vista proprio di mentale ma porca miseria le feste sono un tour de force si sta sempre a tavola a mangiare amici parenti e Federica allora aspetta aspettate aspettate che nel chiacchierare io faccio le cose che non vanno fatte il ditone è interno quindi la parte che noi andremo ad appoggiare diciamo internamente sarà questa dove c'è la linea dritta ok? guardate guardate il trucchetto avete un pennarello questo pennarellino chiaramente non è all'interno del kit però se voi avete un pennarellino tipo questo potete andare a riprodurre se lo fate con l'ago e filo non c'è bisogno di questo pennarello io per farvi vedere insomma che ci sono dei trucchetti anche vedete che simulano il discorso della come si dice aspetta questo va così e questo va così non mi fate parlare nel momento cruciale se no metto tutti e due i pollicioni da una parte chiaramente le braccia non vanno impite tantissimo perché devono ospitare all'interno e ci dobbiamo bloccare la manina ecco i pollici interni tutti e due chiaramente da una parte e dall'altra eccola qua uno e due eccolo fatto in questa maniera finiamo di mettere questi puntini e noi ci siamo preparate le braccine tutto a posto Fede sto guardando le braccine le braccine che andranno posizionate nel nostro il nostro corpo in questa posizione qua ok io già mi sento di poterle mettere Federica le vado ad attaccare sopra nel frattempo si asciugano tirano ok e le lasciamo poi magari le appoggiamo un po' più laterali esterne vero Federica che si aprono un po' io potremmo pure mettere un'altra toppa però tanto c'è la scopa voi a casa ragazze avete più possibilità di mettere le toppe deciderete come metterle avrete più tempo vi potrete studiare meglio la vostra befanina noi qui se riusciamo a stare all'interno dell'ora siamo ben contenti eccola qua ci siamo ragazze lasciamo tirare procediamo facciamo la scopa nel frattempo poi arriviamo alla fine con la testina facciamo la scopa la scopa guardate è carinissima molto semplice bastoncino di cannella lungo pannolenci tutto tagliuzzato all'interno avete la striscia avrete due strisce uguali una delle due praticamente le andate a piegare a metà in questa maniera e le andate a creare tutti a caso come vengono vengono tutti molto in alto cioè ad arrivare più in alto possibile me l'ha preparato Fede però comunque più in alto possibile più arrivate su e meglio è non dovete arrivare chiaramente alla chiusura in alto perché questo ci serve per tenere insieme tutte queste strangiature ok più in alto possibile perché perché non avremo tantissimo come si dice malloppo termine tecnico scientifico tantissimo materiale praticamente sopra ci serve per fare girare per girare su se stesso allora vediamo 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 eccoci qua sto bene inquadrata Federica sto dentro sì sì perché mi sposto io ogni tanto lo so ecco fatto ci sei no bravissima ecco fatto oggi dovremmo averli fatto prendere poco mal di mare ricordate eh meno male ricordatevi ragazze che questo video tutorial rimarrà sempre su questa pagina e Federica domani lo metterà anche su youtube allora ci prendiamo la nostra cannellona che poi decideremo se toglierla o meno andiamo a togliere le nostre spilline eccole qua ci siamo ci siamo ci siamo opra le nostre spilline l'abbiamo piegata a metà eh semplicemente prendiamo eccola qua e decidiamo di iniziare ad incollare la scopa incolliamo mettiamo un po' di colla a fermare la prima parte e semplicemente andiamo ad avvolgere la scopa e ogni tanto mettiamo una punta di colla che ci serve praticamente a bloccare il tutto guardate che carina eh piano piano giriamo 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 se si sposta non importa la lasciamo parecchio libera perché è bello vedere anche queste parti che sono un po' più alte un po' più basse ok vediamo un attimo se vogliamo proprio essere eh forse eh sì mi sarà più comodo io prima non l'ho fatto adesso vedo che questa gira dappertutto allora che cosa ci facciamo ci facciamo ecco fatto già ho tagliuzzato quindi perché se la metto subito Federica ho paura che nel punto dove vada a mettere a tagliare mi trovo la colla mi ci trovo allora piano 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 avvolgiamo e chiudiamo più stringiamo più stringiamo e meglio è vediamo un po' qui dovete arrivare più in alto eh dovete arrivare perché qua non la dobbiamo comunque se diventa troppo cicciona si può anche tagliare prima la scopetta come dici non ho capito Fede se uno lo vuole un pochino più magra la scopetta sotto fa meno giri no 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 perché magra sì certo però è bellina cicciottella paffutella così non ti piace paffutella così Federica vediamo un attimo occhio al sì al bastoncino al bastone della cannella sì sì poi lo tagliamo eventualmente facciamo un giretto in questo modo lo stringiamo stringiamo forte 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 e chiudiamo mi dicono questa è una befana super super una befana super ragazzi befanina betti befanona betti ok e chiudiamo il tutto vediamo se ci si chiude in questa maniera e ci siamo eccola qui guardate ecco la nostra scopetta se questo è troppo grande lo andiamo a tagliare con un taglierino o qualcosa guarda carina Federica ci mettiamo questo e poi ci mettiamo il nostro fiocchetto il fiocchetto lo prendiamo qui un fiocchettino che voi troverete all'interno fatto con il cordone che può essere o di questo colore o di altro quindi non vi preoccupate se a volte trovate un qualcosina di diverso ma perché abbiamo finito i materiali ce ne state chiedendo veramente tante e può capitare che i materiali terminino ma all'interno troverete sempre qualcosa abbinato guardate già che carina questa è la scopetta vi piace ragazze con la cannella profuma pure Federica profuma pure allora prima di andare avanti allora io faccio anche un'altra cosa qui io ce la metto un'altra set top vedete a volte capita che anche se fate lo stesso lavoro no vi capita poi di realizzare magari un progetto non proprio uguale un po' diverso perché vi andate ad aggiustare piano piano le parti che andate a realizzare guardate allora chi ha quel filo e chi ha tempo a casa prende l'ago il filo con il filo nero realizza due o tre di questi effetti qua di cusciture perché questa è una toppa e va comunque cuscita l'effetto della cuscitura lo possiamo ottenere anche con un pennarello con un pennarello due o tre pezzi è carino metterli è più bello farli con il filo Federica se utilizzano il filo nero è meglio uno bello cicciottone a rilievo Paola mi chiede quant'è alta la befana circa ora lo vediamo ora la misuriamo misuriamo l'altezza della befana guardate facciamo questi effetti qua voi lo fate abbiamo detto con l'ago e filo ok ci siamo Fede questa la cusciamo in questo modo è cuscita è tutta cuscita non si muove più la toppa allora la befana prendiamo la la nostra super riga di legno è alta eccola qua una bella befana 50 centimetri mezzo metro Paola mezzo metro è mezzo metro mezzo metro con il cappello procediamo 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 andiamo adesso a parlare della testa poi dopo assembliamo e mettiamo il tutto vedete carina comincia a prendere forma vediamo vediamo ah dobbiamo mettere anche scusami Fede non avevo pensato ai cosi al peletto sotto peletto sotto ah certo i scapponcini i scapponcini pelosetto quindi in questa maniera lo andiamo a mettere vediamo pure qui ci vuole un pochino di pazienza di tempo per far aderire tutta la colla e per far incollare le parti che compongono questa pelliccetta avete da tagliarla a metà una parte una dall'altra eccola qui colla e mettiamo uno poi non si vede tra questi peletti la giuntura non si vede Federica come vanno vanno sono carini così meglio metterla sul retro nel dubbio si la mettiamo sul retro la befanina ha freddo quindi noi adesso li mettiamo i calzerotti come si chiamano li mettiamo i calzerotti ragazzi eccoli qua finita la colla e la parte bassa della befana l'abbiamo terminata ora andiamo a lavorare sulla testa sulla testa che è un pochino più è la parte che volevo farvi vedere Fede si vede che ore sono noi abbiamo sempre da fare delle corse con il tempo sono 11 e 18 benissimo siamo ancora nei tempi forse sforeremo un pochino sforeremo un pochino la tabella di marcia tante amiche stanno arrivando anche adesso ben arrivate a tutte ben arrivate ragazze poi ve lo guardate il video ce l'abbiamo poi questa qui con le forbicine andate a fare un pochino di modifiche al peletto una volta che l'avete messo sopra questi vanno un po' con la nostra tecnica dove vanno vanno dice come colgo colgo dove vengono vengono voi comunque se volete andate lì e andate a fare come le parrucchiere andate a sistemare i peletti e ad aggiustarli come meglio vi pare adesso ripeto il nostro fine è vedere come realizzare il tutto poi con calma a casa sono sicura che ogni troverete tantissime come si dice possibilità diverse anche da quelle che vi sto prospettando io questo lo blocchiamo questo lo lasciamo ancora un po' aperto perché ci dobbiamo incastrare la scopetta e qui ci siamo scopa fatta corpo fatto dedichiamoci al disetto ora che cosa facciamo ci prendiamo chi ha la possibilità e ce l'ha si prende l'acconciamoci che è questo strumento io vi faccio vedere qui come fare vi dico che cosa ho fatto io ho preso la parte lunga da 30 centimetri mi sono creata la parrucca ho fatto 40 si vede così 40 giri di questa di una lana non è questa nera chiaramente io me la sono già preparata ve la faccio vedere in piccolo perché se no non arriviamo in più due mazzettini da 40 da 40 giri nella parte dei 30 centimetri vi faccio vedere che cosa ho fatto ho girato adesso non li sto a contare voi ve li contate avete la quantità per fare un pochino più abbondante è difficile tenerla così bassa è difficile anche per me c'è ragione non è facile dobbiamo mettere una telecamera dall'alto dall'alto allora sì insomma giriamo in questa maniera fino ad arrivare a 40 giri una volta arrivati a 40 giri io mi prendo un pezzettino di questa lana la vado a vado ad alzare una parte vado ad alzare una parte vado a chiudere non chiuderò al centro ma un pochino di sotto poi vi spiego il perché ve lo spiego vediamo se ci arrivate anche da sole in questo modo libero la parte sotto e con le forbici vado a tagliare chiaramente lo faccio con la lana che vi sto mettendo io che è oscura o marrone o rossa a secondo gli abbinamenti a secondo le disponibilità in questo modo la vado a spostare un pochino da una parte perché io ho deciso di fargli la riga non nel mezzo ma da una parte in questo modo quindi io per poter sfruttare le due lunghezze nella stessa maniera ho deciso di mettere non al centro in questo modo perché avrei avuto una parte più lunga una parte più corta la metto in questa maniera quindi me li trovo già fatti ragazze perdonatemi ma mi sono dovuta avvantaggiare un po' il lavoro perché se no non ci riuscivamo 40 giri dalla parte dei 30 centimetri chiudo come vi ho fatto vedere e realizzo due ciuffettini per quale motivo ne faccio due perché la testa è talmente grande è una bella testolona che se io non faccio due di questi ciuffettini non riuscirò mai a coprire la parte dietro in questo modo ok? allora io che cosa andrò a fare? vado ad attaccare il secondo ciuffetto questa volta me lo lascio cadere giù e vedete io mi trovo una parrucca perfetta o quasi perfetta ok ragazze? ci siamo? ci siamo andiamo procediamo procediamo allora prima di fare questo però di attaccare la colla dato che io ho deciso sempre per complicarmi un pochino la vita per non fare le cose semplici semplici di avere di avere la possibilità di mettere questi ciuccetti dritti si vede Federica? nel riquadro perché abbiamo troppe cose hai ragione allora i ciuccetti li posso tenere così oppure li posso alzare come pipicalze lunghe vedete? per realizzare questo effetto io ho bisogno di una struttura dentro di ferro quindi il nostro ferro modellabile di qualsiasi colore lo avete va benissimo io ce l'ho messo di questo colore ma ve lo metterò insomma come viene come viene pur che sia un filo modellabile modellabile vediamo un attimino e prima mi metto questa però Federica decido di mettere mia scusate ragazzi sto facendo delle prove perché io spesso in corso d'opera anche io cambio modalità perché magari se mi trovo meglio in quel momento con una cosa faccio quella altrimenti la sostituisco con un'altra a umore purché il risultato sia quello voluto adesso mi preparo la prima parte che è questa allora mettiamo così mettiamo un pochino di colla a coprire questa parte del visino eccola qua poi dopo ce l'andiamo a sistemare da una parte e dall'altra mettiamo colla e ci blocchiamo il nostro visetto eccolo qua io nascondo qui in mezzo no facciamo così blocco il dietro il rovescio prima i due cuccettini si si adesso stavo vedendo come mi poteva venire meglio mettiamo i cuccettini prima prima mettiamo i cuccettini poi quello lo incastriamo in mezzo ok però potrebbe essere anche messo prima non c'è una regola per tutti io la cosa che mi interessa è bloccare si vede Fede è bloccare un pochino questi capelli mettendo a caso un po' di colla e facendo scendere giù importante che mi copre la nuca in questo modo ci siamo ora mi prendo questo lo incastro anche qua con una punta di colla nel mezzo considerate che tanto c'è il cappello e non si vede nulla quindi lo blocchiamo tra i due cuccetti bisogna avere un pochino di tempo per far tirare Federica eccolo in questa maniera lo nascondiamo sotto troviamo qualche punto da ancoraggio anche qua da queste parti gli impavidi lo possono anche cucire vero? sì certo certo a chiama cucire sicuramente sì da questa parte e da quest'altra devo abbassare mi è cadrato per favore eh Fede c'hai ragione però non mi viene sempre spontanea questa cosa lo so lo so ok ragazzi vedete io praticamente l'ho nascosto dentro la parrucca non lo vedo più carina carina già cambia cerco di fare adesso due cuccetti cercando di da una parte e dall'altra mi prendo un altro pezzettino di lana sono attente le nostre amiche cosa importantissima cercate di arrivare con la colla fino in basso i cuccetti devono essere bassi per essere carini perché sennò vi rimane tutta la parte della testa libera sembra che non va bene facciamo in questo modo anche se non sono perfetti a noi piacciono lo stesso poi sistemiamo qua andiamo a fare i due cuccettini bassi in questo modo da una parte e dall'altra ce ne prendiamo un altro pezzetto questa è la parte un pochino più elaborata ma guardate ragazzi che è divertentissimo ed è molto semplice una volta ripresi tutti tutte le parti lavorate con il cartamodello è tutto molto semplice e carino allora a questo punto qui si sta dividendo la ciocca e noi la andiamo a chiudere vedete ragazze eccola qua il tempo solo di tirare un pochino vedete abbiamo la nostra capigliatura e facciamo le trecce ora mentre facciamo le trecce dividiamo e da una parte della treccia ci andiamo a incastrare il fil di ferro che poi se esce fuori lo tagliamo ok facciamo uno due e tre eccolo qua lo andiamo proprio a incastrare in maniera che non si veda ecco la nostra trecciolina giriamo trecciolina trecciolina giriamo e adesso leghiamo la leghiamo io non l'ho preso mi sono dimenticata no no ci provo Fede ci provo con le mani vediamo un po' ecco da sola vediamo se ce la faccio in questo identico modo voi ve lo trovate già tagliato dentro adesso l'ho preso a caso non so neanche se l'avevo tagliato giusto comunque questa è la mia basta uno scattino tanto di tessuto anche un filo andiamo a togliere quello che è in più e andiamo a fare dall'altra parte è la stessa cosa però questa volta me lo taglio prima Fede che ne dici vediamo vediamo due in questo modo quindi uno due trecciolina da quest'altra parte giriamo 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 eccoci qua trecciolina trecciolina questa come dicevamo prima è la mia Betty è la nostra Betty è Federica Betty Betty mi ricorda c'era un cagnolino che si chiamava Betty tanto carino un bassottino te lo ricordi Federica si di una nostra amica una bassottina sveglissima è la nostra amica Tiziana aveva questo bassottino ce l'ha credo che ce l'abbia ancora che si chiama Betty quando ho pensato a Betty la Befanona dico ho avuto pensato a questo bassottino carino allora togliamo quello che è in più in eccedenza eccolo qua e ci abbiamo le treccioline adesso di nuovo parrucchiere facciamo le parrucchiere e tagliamo voi a casa prendete le misure fatele brave non fate come me io vado a occhio eh perché dobbiamo poi procedere che ne dite guardate che carina guardate quant'è simpatica questa quest'altra versione di Betty e a questo punto ci andiamo a mettere subito subito i fiocchettini voi avrete anche questo avete anche il cordone all'interno eh avete anche il cordino ma facciamo in questa maniera che mi dà meno meno pensiero facciamo così lo chiudiamo in questo modo meno nodo grande che dici no ma no no lo facciamo normale facciamo un fiocchettino normale devi andare giù Federì uno noi siamo aperti al pubblico ragazzi oggi pensavamo che fosse una giornata tranquilla mai dire mai Fede vero ci siamo anche con l'orario ci siamo meno male perché dobbiamo far partire dobbiamo far partire ragazze i vostri pacchi così avete a casa presto la Befanona da lavorare da lavorare esatto in tempo adesso vi ricontatteremo a tutte eh grazie per gli auguri non ho potuto rispondere a tutte voi amiche però lo faccio qui in diretta grazie 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 e questa è la parrucchetta ora andiamo a fare le guancette il nostro mitico Versa Magic eccolo qua con il nostro fingers finger è uno solo eh Federica bravissima ci permetterà di fare le guanciotte ora andremo a fare anche il naso eh il naso anche ha subito una mia modifica non è il naso originale che trovate nel cartamodello ma è un bel popò di naso con tutte le misure che vi metterò io dentro che avete all'interno della eh del cartamodello e c'è del kit che viene 26 euro con il punto cavalluccio come voi già ben sapete l'abbiamo visto tante volte lo andiamo a realizzare eccolo qua ci mettiamo la nostra bella imbottitura faccioccosa questa bella anche l'imbottitura noi abbiamo ragazzi eh per chi fosse interessata anche l'imbottitura sia questa qui siliconica che quella un po' più strutturante eh la differenza l'abbiamo spiegata l'abbiamo detta se serve lo diciamo però insomma l'abbiamo già detta eccolo qua un nasone cicciottoso per la nostra befanona vediamo se inserimmo dell'altro quindi abbiamo una versione federica rossa e una versione mora vero vediamo vediamo un po' che cosa succede voglio fare il nasino prima perché devo posizionare gli occhi e gli occhi insomma non li posso mettere a caso è vero che si l'ho fatta un po' strabicuccia la vista federica questa perché vi ho spiegato che i punti luce vanno messi o tutti da una parte o tutti dall'altra perché altrimenti sembra che abbia uno sguardo strabico ma questa Befana ce l'ha vedi l'ho messa proprio appositamente dentro ti piacciono? mi piacciono mi chiede Quintina quale colore c'è nel kit no i colori non ci sono nessuno Quintina nel kit no quale colore della Befana c'è nel kit la roscia o la mora? allora dipende perché la serie delle rosse le abbiamo finite tutte forse qualcosa c'è dipende da quello che capita tanto sono carine entrambi a meno che non abbiate proprio un'esigenza particolare pensavo che mi si dicesse i colori capito delle guanze e così questi no ce li avete voi a casa lo potete fare come volete dipende se avete un'esigenza particolare o come vengono vengono perché sono tutte belle e noi ce ne abbiamo sono rimasti pochissimi con il corpo verde però sono belle entrambi guardate credetemi ragazze adesso lo vedrete lo vedrete voi questo è il nassone della nostra Befanona che andremo anche lui un pochino ad arrossare perché pure la Befana guardate che carini questi Versa Magic sono bellissimi e fichissimi da lavorare facciamo un po' un po' rossa Federica che ha un po' bevuto che dici o fa freddo allora io adesso prima di mettere il nasino che lo metterò qua mi vado a prendere la misura per fare gli occhietti utilizzerò sempre queste penne cancellabili vediamo un attimo si vede Federica mi faccio il mio occhio che ne so da questa parte poi se non mi piace lo faccio sempre in tempo a toglierlo eccolo qua questo è il mio occhio sono i miei due occhi della Befana e a questo punto li facciamo in questo modo stondiamo di sotto poi vado a sistemare con il pennellino e il colore acrilico io ce l'avevo il pennellino l'ho preso prima in mano eccolo qua dobbiamo dargli un pochino anche di tempo per asciugare magari me lo vado a modificare quello che capisco una volta che vedo il colore che vedo la forma riesco a capire se l'ho ingrandito troppo me lo vado un pochino a modificare con il nero dentro si riesce a vedere vedete è molto semplice lavorare potete farlo anche con un pennarello se volete certo l'acrilico è più bello è più corposo come colore quindi è più bello vedi me la vado un pochino a centrare Federica si si quella è una traccia è una traccia che se capisco che va bene la utilizzo altrimenti me la vado a modificare perché noi sappiamo che con il calore quella traccia blu sparisce e mi rimane solamente il nero vediamo la lasciamo asciugare quindi nel frattempo andiamo a vedere il cappello che dici Fede ci siamo ti sembrano abbastanza fatti bene mi hanno ridersi guanciotte tonde eh sì sono carine proprio a meletta adesso le lasciamo un attimino così e poi vediamo tra un pochino quando si è asciugato togliamo il contorno però occhio mi sembra che vadino bene poi con il rosso e un bulino o un retro vediamo il bulino ce l'ho lì mi faccio le mie bellissime i miei bellissimi cuoricini lo faccio da una parte una V è sufficiente fare una V per fare un cuoricino e dall'altra parte sufficiente sempre una V questo è un po' più cicciottello quest'altro lo andiamo ad ingrandire io vado veloce ragazze poi voi invece con tutta la vostra tranquillità prendete le misure che dici Fede ci siamo? sì ok a prendere forma eh prende forma la nostra Befanina scusami Fede e adesso facciamo le lentiggini i punti luce non li posso ancora fare perché è bagnato è tutto bagnato l'hai visto? eh sì diciamo che voi da casa se partite subito dalla testina avete il tempo di farla asciugare brava Fede sì esatto oppure col fono ci può fare? ci può sfugare col fono? sì sì pure il fono io non ho pensato di prenderlo andiamo un po' facciamo parecchie lentiggini a questa Befanona facciamo su eccole qui e facciamo le potete fare tre cinque come vi piacciono di più? adesso qui le impiamo eh questa bella facciotta ti piacciono un sacco eh tanti ma guarda Fede non possono non piacerti guarda quando metti quando metti il nasone allora aspettiamo un secondino per mettere i punti luce sugli occhi intanto quasi quasi approfitto e attacco il nasino questo naso alla francese Federica è un nasino alla francese questo piccolo alla francese vero? sì piccolo piccolo e alla francese eccolo qua dobbiamo farci anche il sorriso lo sai Fede sì ho una paura per quegli occhi che stassi sono bagnati sono bagnati devo fare anche le sopracciglia e le ciglia vediamo un po' ma anche le lentiggini sono bagnate poi una volta che si asciugano si possono anche ripassare sopra Federica adesso prendiamo facciamo un bel sorriso smagliante mi chiede Sandra le ciglia e Sandra aspettiamo che si asciuga tutto gli abbiamo fatto un bel sorriso smagliante io le ciglia mi posso anche ci provi così ecco le ciglia è proprio sciccosetta ciglia e sopracciglia ciglia e sopracciglia adesso aspettiamo che si asciughi per poter mettere anche i punti luce sul nasino e negli occhietti guardate che carina questa befanina poi come sempre Federica metto sempre il sotto voi non fate questa cosa adesso nel parlare vedete questa parte che comunque è quella cucita ma non si vede perché abbiamo la nostra sciarpina se potete mettetela dalla parte della testa io adesso nel parlare non ci ho pensato mi distraggo con altre cose e non ci ho pensato mi dicono che sembra Carmenzita è vero mamma mamma lo sai chi è è arrivato il merendero era così era questa Federica Carmenzita mi ricordo proprio che è lei e veramente sembra Carmenzita carinissima allora nel frattempo che si asciugano i capelli c'è gli occhi scusate andiamo a mettere delle rifiniture la prima che andiamo a fare è qui intorno perché andiamo a coprire le parti che non ci piacciono della colla e quindi io adesso metterò il mio fiocchettino da una parte guardate farò in questa maniera allora la quantità della diciamo del cordone sarà pure quello di metterlo come ora vi faccio vedere quello che ho fatto sull'altra comincia a essere un po' chiuso lo spazio ci proviamo Fede ci proviamo grazie assistenti grazie mille ci mettiamo questo ci mettiamo colla e chiudiamo chiudiamo da questa parte mandiamo la chiusura sul davanti perché proprio lì andrò a mettere il fiocchettino ok faccio un fiocco in questo momento lo faccio facciamo doppio doppio fiocco doppio orecchio uno due tre e quattro quattro orecchie in questa maniera avete anche il fiocchettino all'interno lo andiamo a chiudere in questo modo bello pieno sì 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 mi piace bello pieno ci andiamo a mettere del filo ma se ti piega su qua questa tele ah no ci sono i colori no faccio un macello ci sono ancora i colori dobbiamo trovare un modo Federica per essere un po' più anche per far vedere le amiche a casa meglio io mi sposto con le mani capisco che ti esco dallo schermo però se guardo il lavoro non perdo di vista il centrale dell'immagine sono concentrata su quello che devo fare però c'è un riquadro bianco riquadro marrone ce ne abbiamo due allora dipende da me allora dipende da me ragazzi abbiamo anche il bordo del tavolo che è molto hai ragione è un modo stato un modo carino insomma per riprendermi hai ragione allora fiocco primo fiocco eccolo qua secondo fiocco ci siamo ragazze ma l'avete passate bene queste vacanze queste feste di Natale ragazze ditemi un po' in famiglia spero noi siamo stati benissimo ho avuto tutti i miei cuccioli con me anche i cuccioli giovani ma anche dei cuccioli di 80 anni eh ragazze qui siamo stati proprio bene 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 proprio bene poi le decorazioni qui ognuno si sbizzarrisce esatto esatto io metterò questi accessori metterò i campanelli metterò tutto quanto poi volendo ci potete anche mettere una una tuya per esempio no un fiocchettino che ne so io metterò dentro il mio kit questo questo materiale che vi faccio vedere oggi metterò tutto questo allora posso decidere di lasciarla così o di fare il giro come ho fatto con l'altra la lascio così questa non ce lo metto perché ha tanto quadrettato e non ce lo metto però voi avete la quantità anche per poter fare il giro che dici Federica ti piace di più ti piace se io ci metto qualcosa così che la giro in questo modo sopra che dite ragazzi ce lo metto o non ce lo metto che dicono le nostre amiche un qualcosa di traverso o così però che dite ragazzi ci va la mi piace un qualcosa sopra un nastrino non ce lo mettiamo io questa la lascerei così perché ha tanto quadrettatura Fede però loro a casa hanno la possibilità di potercela mettere allora vediamo un attimo io mi faccio un taglietto anche sotto per allentare un pochino qui non l'ho detto alle nostre amiche facciamo un taglietto mi dicono di non metterlo no non la metto infatti solo il fiocco perché a me non piace effettivamente in questo modo non piace allora si saranno asciugate vediamo un po' soffiamo 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 se avevamo il fono non c'era problema con il ferro rischiamo un pochino stiamo un pochino attenti vediamo un po' scusate faccio un attimo una cosa si dimmi benissimo ok ci siamo ok vediamo un po' ragazze di far sentire un po' eccolo qua vedete si toglie tutto ho paura perché ancora non siamo molto asciugate ma benissimo però ci siamo vero Fede è andato via tutto benissimo allora a questo punto a questo punto andiamo a fare i punti luce come avevamo promesso eccoli qua facciamo gli occhi strabici quindi mettiamo tutti i punti luce che guardano all'interno uno due un attimo che uno due e mettiamo il piccolino uno e due guarda dentro e poi mettiamo una pallina facciamo così una virgolina se volete ce la mettete se non volete no sul nasino un punto luce lo lasciamo così che ne pensi Fede ti piace? ci siamo dimenticati di nulla? no non credo mi dicono il naso è enorme deve essere grande se lo volete fare più piccolo io dentro vi ho messo nel kit la misura è questa la misura che voi andate a vedere se vi piace più piccolino lo andate a rimpicciolire allora a questo punto io mi prendo tutte le parti che compongono la mia sbefanina ci siamo quasi ragazze ce l'abbiamo fatta spero di essere stata chiara qualsiasi cosa che vi serve di approfondire di capire me lo fate su whatsapp mi mandate tutte le domande le cose che volete oppure me le fate ora in questo momento che io vi posso aiutare mettiamo colla sotto andiamo ad ancorare la testina al cappello lo mettiamo un po' sghecio eh Federica lo mettiamo sghecio il cappello eccolo qua dobbiamo oh oh mi levi con la mano la grazie lo dobbiamo un pochino posizionare bene aspettare che tiri un pochino eccolo qua guardate che carina quanto è buffa sono buffissime queste queste sono buffissime allora andiamo a rinforzare ci vuole un pochino per farlo tirare un pochino di tempo vediamo eccola qua dopo la andiamo a rinforzare maggiormente allora mentre lo incoglie la testa io mi risposto davanti per te va bene va benissimo mentre prepari il collo va più che bene ecco qua cambio prospettiva ragazzi benissimo eccoci qua ci siamo ci siamo ci siamo anche perché Federica carina sta sempre un po' in bilico non ce la facciamo dobbiamo fare assolutamente una ripresa dall'alto Federica e con quella riusciamo allora io scusate mi cerco di ancorare tutta la testina il cappello ci vuole un pochino di colla ci vuole un pochino di pazienza mettiamo in questo modo la nostra vecchia è quasi pronta ragazze è carinissima anche questa versione molto molto carina molto molto carina i ciuccetti li mandiamo in alto attacchiamo la nostra scopetta la mettiamo sotto guardate che carina la appoggiamo in questo modo la mettiamo sulle mani sulle manine vediamo un po' eccola qua allora ragazzi vi è piaciuta la Betty sta piacendo alle ragazze le stanno lasciando commenti è divertente ragazze condividete questo video facciamola vedere questa Betty a più persone possibile mi raccomando ragazze adesso questa settimana vi arriverà il progettino a chi ha condiviso la settimana scorsa vi arriverà il progetto di questa settimana che è un lavoretto molto carino di Natale vi ricordo a chi non l'ho mandato me lo ricordasse su whatsapp che recupero subito brava Fede brava Fede mettiamo la sciarpina perché è freddo fredda gli mettiamo la doppia sciarpa mettiamo il doppio giro vediamo un po' dobbiamo mettere anche il gancettino dietro ma va bene lo faremo in un secondo momento questa è la sciarpina della nostra Betty così non si sentirà più sola l'altra era sola prima la roscetta adesso abbiamo una roscetta e una moretta ecco fatto la sciarpina facciamo un nodino dopo parlo col notaio per il sistema luce il sistema ripresa sì 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 vediamo che ci dice sì sì altro anzi vediamo che cosa organizziamo piano piano ci arriviamo arriviamo dappertutto i giorni sono fatti di Federica di 24 ore sono sicura che anche le nostre amiche non bastano mai bisogna far asciugare il tutto ed eccola qua ragazze la nostra Betty Mora moretta che ne dite ragazzi qui si deve si deve asciugare ancora e se io tocco ancora ci abbiamo un pochino di da dover bloccare ecco fatto che ne dite ragazze vi piacciono adesso poi chiudiamo la telecamera metto tanta colla ecco le Kessler guardate che carine eh le due Betty giù le metto così Federica ecco perché sono altissime sono alte 50 centimetri ragazze con la scopetta eccole qua questi sono i due kit che noi proponiamo un kit chiaro e un kit scuro il costo è di 26 euro tutto quello che avete visto è compreso veramente tranne l'imbottitura i colori che ce l'avete a casa quindi per qualsiasi cosa noi siamo qui a disposizione ragazzi ah una domanda interessante che non l'abbiamo fatta vedere ce la siamo dimenticata come si fa per appenderla esatto allora lo devo mettere lo devo mettere in questo modo eccolo qua nella parte alta del cappello adesso vi faccio la sistemo la possiamo sistemare pure adesso ma ho paura che la colla non è ancora asciutta ne abbiamo messa tanta se io lo vado a mettere praticamente mi si stacca il cappello dobbiamo aspettare un secondo che tiri l'andate a mettere qui fate un fiocchettino l'attaccate un pezzettino qui il cordino e fate la soletta sopra e in questo modo rimane appesa ok non lo faccio ora perché ripeto la colla è calda non ha ancora tirato il cappellino una volta che ha ancorato il tutto anche lei sarà appesa in questo modo eh ok ragazze allora noi ci si vedrà domani pomeriggio per arte in lotto alle ore 16 mi raccomando sarà l'ultimo incontro di quest'anno del 2021 poi sparati e proiettati al 2022 io vi saluto vi spero che vi sia piaciuto il progetto i kit sono pronti in pronta consegna stamani partiranno tutte le diciamo avranno la precedenza chi ha acquistato il kit perché dovrà averlo a casa prima possibile per poterla realizzare mandatemi le vostre foto mi raccomando iscriveteci al 328 900 4879 domani l'avremo sul sito www.tividarte.it e per qualsiasi cosa abbiamo anche un numero di telefono fisso 0766 856094 quindi io vi saluto grazie per essere state con me un bacione a tutte e a presto ci sentiamo dall'altra parte ci sentiamo su whatsapp ciao da me e ciao da Fede dalla regia eh vero Federica salutiamo le nostre amiche ciao ragazzi ciao a tutti un bacione